Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come abilitare così Aprire la console su Counter Strike 2 ovviamente noi possiamo aprirla attraverso un comando di Steam da mettere sul gioco E poi mettere il comando per aprire la console su Counter Strike 2 Ovviamente iniziamo prima ad andare sulle impostazioni quindi tastiera e mouse Scendiamo fino a giù fino a trovare Interfaccia, attiva e disattiva console, tu metti il tuo tasto che vuoi premere per aprire così la console Io metto questo La console si apre e si chiude a me E adesso non ci resta che chiudere un attimo il gioco Quindi chiudiamo il gioco Ok, ora andiamo su Steam Impostazioni Gestisci Proprietà, proprietà Generale Scendiamo fino a giù E scrivi trattino Console Ok Quindi trattino Console Più di qua E avvia il gioco Proprietà E avv Leitch A Allora Ok, vado ad aprire così la console, la console si apre, eccola qua. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come aprire la console su Counter Strike 2 attraverso il comando da mettere su Steam e poi impostare un comando per aprire la console su Counter Strike 2, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!